Sono 23 le persone indagate nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla procura della Repubblica di Vibbo Valencia sulla regolare frizione del reddito di cittadinanza. La procura ha ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibbo un sequestro preventivo per le somme di denaro percepite da parte degli indagati residenti nel Vibbonese che avrebbero beneficiato del sussidio grazie a false dichiarazioni nelle quali non sono state inserite informazioni dovute e rilevanti rispetto ad una possibile revoca. Il sequestro di beni per un totale di 80.000 euro è stato eseguito dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza. In alcuni casi i beneficiari avevano messo di comunicare di essere sottoposti a misura cautelare personale per reati particolarmente gravi come associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, rapina, violazione di diverse norme in materia di armi e droga.